Al via i lavori per il pronto soccorso infettivologico. Questa mattina sono stati firmati tutti i protocolli tra le parti interessate e il totale dell'intervento è di 700.000 euro. Si tratta di una struttura dedicata soprattutto ai pazienti Covid che, almeno in questa fase, verrà realizzata nel locale Lex Banca. La Regione ha inoltre disposto il finanziamento per realizzare una terapia sub-intensiva. Ancora in stallo invece il progetto della terapia intensiva finanziata da Eni. Quali abitare? Entro marzo progetti al Ministero. Sulla carta l'amministrazione comunale compete per finanziamenti che toccano un totale di 45 milioni di euro. Servono a progetti di riqualificazione di diverse zone della città. Le due commissioni consigliari urbanistica e sviluppo economico stanno lavorando insieme ai tecnici comunali e all'assessore Di Stefano. Definiti i tre assi progettuali da seguire. Melfa ci ripensa. Continuerò ad investire nello sport e nel sociale. Passo indietro dell'imprenditore dopo la condanna ad un anno e due mesi in primo grado per la vicenda delle presunte sponsorizzazioni false all'Era Clea Volley. Confermate invece le rinunce dell'incarico di esperto del sindaco e dalla Federmetano, ma non quelle, su calcio, basket e palalivatino. La regione interviene sul Gattano, ma resta il problema rifiuti. Dopo cinque anni la regione siciliana ha ripristinato l'alveo del torrente Gattano con lavori di manutenzione che hanno di fatto ripristinato la sezione del corso d'acqua, che negli anni si era ostruita. Rimane comunque il problema dei tantissimi rifiuti che tuttora vengono scaricati nei canali limitrofi. Una relazione al governo per l'hub commerciale Il comitato Gate Mediterraneo Gela ha concluso la relazione tecnica che invierà al governo nazionale, al Ministero delle Infrastrutture, ma anche gli organismi europei e a tutti quei comuni dell'area di crisi. Tecnici, professionisti del settore e associazioni sono certi che si possa arrivare ad ottenere il sì per il progetto di un hub commerciale e logistico nel Golfo di Gela. Ben trovati con la nostra informazione su Tele Gela ed il quotidiano di Gela. Apriamo il nostro notiziario con l'avvio dei lavori per il pronto soccorso infettivologico. I lavori del pronto soccorso sono iniziati questa mattina con la firma di tutti i protocolli tra le parti interessate. Il totale dell'investimento è di circa 700 mila euro. Si tratta di una struttura realizzata nei locali dell'ex banca. La regione ha inoltre disposto il finanziamento per la realizzazione di una terapia subintensiva per un totale di circa un milione e mezzo di euro. I cui lavori dovrebbero partire tra due settimane. Ancora in stallo invece il progetto della terapia intensiva finanziata da Eni. Ce ne parla Gerry Italia. Prendono il via ufficialmente questa mattina i lavori per la creazione del pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Vittorio Emanuele che nell'arco di poco più di tre mesi doneranno alla città un sito di pronto intervento interamente dedicato al covid separato dai locali dell'attuale reparto di emergenza. Stamattina la firma dei protocolli è la consegna alla ditta dei locali dell'ex banca che ospiteranno il nuovo pronto soccorso alla presenza dell'ex dirigente regionale Salvatore D'Urso ora nello staff per l'emergenza sanitaria del presidente Nello Musumeci, del sindaco Lucio Greco e dei vertici dell'ospedale. Non c'era invece il direttore generale dell'ASPA Alessandro Caltagirone. Il totale dell'intervento è di circa 700 mila euro e la consegna del lavoro ultimato è prevista entro i prossimi 100 giorni. Oggi consegniamo i lavori per la riqualificazione del pronto soccorso con la realizzazione di un percorso infettivologico separato dall'altro percorso generale del pronto soccorso. L'ASPA invece realizzerà, ma i lavori penso da quello che ho sentito inizieranno anche questi a brevissimo, la ristrutturazione del pronto soccorso esistente. Tutti gli ricoverati al pronto soccorso vengono tutti messi insieme e quindi i portatori di infezione o i più deboli perché non possono ricevere infezione stanno insieme, hanno lo stesso percorso di altri malati col rischio di venire contagiati o di contagiare altri tipi di pazienti che vengono ricoverati al pronto soccorso. Quindi la separazione dei percorsi che è diventata una politica nazionale che si sta adottando in tutta Italia e in Sicilia in particolare siamo all'avanguardia negli interventi di questo genere. Dall'altro, l'altro deficit che si è riscontrato a livello nazionale in tutte le strutture ospedaliere è una scarsa quantità di posti di terapia intensiva dove accogliere nella maniera migliore offrendo il massimo dell'assistenza sanitaria ai pazienti che hanno problemi gravissimi di sopravvivenza. La Regione ha inoltre disposto il finanziamento per la realizzazione di una terapia subintensiva per un ammontare di circa un milione e mezzo situata in alcune stanze del reparto di medicina al primo piano. I lavori dovrebbero partire tra circa una quindicina di giorni. Fra 15 giorni ridò appuntamento sempre qui su questo stesso piazzale perché consegneremo invece i lavori per la realizzazione dei posti di terapia intensiva e di 16 posti di terapia subintensiva, anche questi realizzati dalla struttura speciale del Presidente della Regione, dell'Onorevole Musumeci. Si attende ancora invece il progetto della terapia intensiva finanziata da Eni di cui ancora pare non sia stato dato seguito alla convenzione tra ASP e il cane a sei zampe. Durante il sopralluogo qualche perplessità medica è stata sollevata sul fatto che il percorso dedicato alla struttura infettivologica rischierebbe di eliminare quello per i pazienti idealizzati. I tecnici hanno però rassicurato sul fatto che i percorsi saranno mantenuti entrambi. Abbiamo già individuato la soluzione e ovviamente questo non succederà perché troveremo un percorso dedicato ai pazienti esterni con una cosiddetta camera calda, cioè con una camera di accoglienza anche per chi arriva in ambulanza da fuori o con le macchine che accompagnano i dializzati e un percorso dedicato all'interno per cui chi è ricoverato all'interno dell'ospedale deve andare in dialisi, non deve affrontare nessun percorso interno ma affronterà esclusivamente un percorso interno. Soddisfatto il sindaco Lucio Greco. Tutto questo rappresenta un segnale importante che arriva dalla regione perché subito dopo questi lavori del pronto soccorso infettivologico inizieranno anche quelli della terapia subintensiva. Siamo pure in attesa che ASP ed ENI formalizzino il contratto per quello che riguarda la terapia intensiva e credo che in questo modo si completerà il ciclo e il programma che era stato già pianificato dall'ASP e dalla regione per rendere il Vittorio Emanuele una struttura che può, come tutte le altre strutture ospedaliere, fronteggiare al meglio la pandemia e ospitare persone contagiate, dotare quindi l'ospedale di tutti quelli che sono i reparti che sono previsti per quello che riguarda la pandemia. E adesso, come sempre, un aggiornamento sull'emergenza Covid. La linea del contagio in città rimane pressoché ferma. Nelle ultime 24 ore si registrano soltanto tre nuovi casi in isolamento domiciliare. Sale però il tragico bilancio dei decessi. L'ASP ha comunicato infatti la morte di due pazienti gelesi. Risultati positivi. Il conteggio complessivo di chi non è riuscito a battere il virus sale così a 60. Attualmente i contagiati in città sono 133 con due pazienti in terapia intensiva. I guariti ieri sono stati 5. In provincia i nuovi contagiati sono 5 a Caltanissetta e 4 anni scemi. I guariti invece 11 anni scemi, 10 a Caltanissetta. Cambiamo adesso l'argomento. Quali abitare? Entro marzo i progetti andranno al Ministero. Sulla carta l'amministrazione comunale compete per finanziamenti che toccano un totale di 45 milioni di euro. Servono a progettare qualificazioni diverse della città. Le due commissioni consigliari, urbanistiche e sviluppo economico stanno lavorando insieme ai tecnici comunali e all'assessore Terenziano Di Stefano. Sono stati definiti i tre assi progettuali da seguire. Si deve chiudere però tutto entro il 16 marzo. Rosario Cauchi. Tre assi progettuali, anche se a Palazzo di Città, ipotizzano che realisticamente si possa rimanere in lizza per non più di due finanziamenti. Nelle ultime settimane sta emergendo quello che sarà il materiale finale destinato ad essere trasmesso al Ministero delle Infrastrutture in attesa di avere la risponso sull'esito del programma ribattezzato Qualità Abitare. Sulla carta l'amministrazione comunale compete per tre finanziamenti da 15 milioni di euro ciascuno, un totale di 45 milioni di euro che sarebbero decisivi per riqualificare diverse zone della città. Mercoledì sera si è tenuta una riunione congiunta delle commissioni consigliari sviluppo economico e urbanistica insieme al vice sindaco Terenziano Di Stefano che ha proposto l'adesione del comune al programma ministeriale. Il termine ultimo per presentare i progetti è fissato al 16 marzo, la prossima settimana si terrà un nuovo incontro, si tenta di chiudere prima possibile per avere tutti i finanziamenti anche se non sarà semplice. Ci si sta concentrando su due assi, il terzo pare molto più complesso, una prima area di riferimento tocca il mercato ortofrutticolo di Giardinelli, lo stadio Presti, via Falcone, l'ex scalo ferroviario e il rudere di via Marsala destinato alla demolizione perché non più recuperabile. Il secondo invece si concentra sul lungomare Federico II di Svevia da via Vasile all'orto Pasqualello con la previsione di un ascensore che dal parcheggio Arena arrivi direttamente in centro storico. Il terzo asse di intervento dovrebbe riguardare proprio il centro anche se in questo caso prevedere un progetto complessivo appare molto più complicato. Il confronto in atto riserva anche posizioni non univoche. Ci sono già state osservazioni sulle scelte che stanno emergendo. La grillina Virginia Farruggia non è convinta dall'idea di puntare non solo sulla riqualificazione di aree degradate ma anche sulla realizzazione di ulteriori strutture. Le previsioni progettuali sono state affidate ad un professionista esterno che pare si sia messo a disposizione gratuitamente. Il presidente della Commissione Sviluppo Economico, Rosario Faraci, spiega comunque che i finanziamenti saranno spalmati nell'arco di dieci anni. Anche questo elemento sarà da tenere in considerazione. Si stanno valutando diverse ipotesi anche innovative che possono incidere su alcuni servizi come ad esempio quello della raccolta rifiuti. Avere fondi di quella consistenza sarebbe un passo importante. Si aggiungerebbero a quelli che il Comune ha teoricamente già in cassa ma che per essere confermati necessitano di progetti conclusi e di gare per l'affidamento dei lavori. La prossima riunione dovrebbe essere quella conclusiva prima di arrivare alla trasmissione dei progetti al Ministero. Le palazzine degli alloggi popolari di Contrada Scavone sono da tempo in condizioni pessime sia strutturali che su un piano del semplice vivere quotidiano. La nostra troupe, quella di Trincea in particolare, anche ieri con Gerri Italia, ha raccontato come si vive in un quartiere da sempre di periferia. Mesi fa il segretario della CGL, Ignazio Giudice, dopo delle tante visite alle palazzine, aveva lanciato l'allarme ed è tornato a farlo anche oggi. In un comunicato per l'ennesima volta ha detto siamo stati in alcune abitazioni del quartiere Scavone e come sempre siamo andati via sconcertati e increduli. E' utile non perdere altro tempo, ha detto Giudice, non perdersi nella polemica, non trasportare le responsabilità ad altri. Chi può faccia, si adoperi per chi il tempo non è un fattore neutro. Non l'è mai stato nelle ore dei bimbi, degli invalidi e non lo è neppure per le persone sane. Adesso cambiamo ancora una volta argomento e torniamo sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'imprenditore Maurizio Meffa, che però dopo tre giorni ha cambiato idea ed è tornato sui suoi passi. Continuerò ad investire nello sport e nel sociale, un passo indietro dopo la condanna ad un anno e due mesi in primo grado per la vicenda delle presunte false sponsorizzazioni all'Era Clea Volley. Confermate invece le rinunce all'incarico di esperto del sindaco e dalla Federmetano, ma non quelle su calcio e basket e infine anche sul pallalivatino. Tre giorni e migliaia di messaggi di solidarietà bastano per far riflettere e tornare parzialmente sui propri passi. Maurizio Meffa, dopo la condanna in primo grado ad un anno e due mesi sulla vicenda delle presunte false sponsorizzazioni all'Era Clea Volley, continuerà ad investire nello sport e nel sociale. In attesa del ricorso in appello, convinto che sarà approvata la sua innocenza, ha annunciato che non ci sarà nessuna rinuncia ai progetti sportivi. La presenza di Meffa quindi e della sua azienda viene garantita per le formazioni di basket e di calcio, ma anche per l'investimento sul pallalivatino. Ho deciso di mantenere tutte le cariche e tutti gli impegni condividendolo con il nuovo consiglio di amministrazione in tema di sport, di basket e di calcio, di pallalivatino e di sostegno alla cultura e allo sport gelese e al sociale. Perché la nostra è una società benefit. Abbiamo fatto delle nomine nuove, oltre al presidente russo ci sono due nuovi amministratori delegati, il dottore Arena, il dottore Guarnera, c'è anche l'ingegnere Salvo come nuovo consigliere, quindi lascio la mia azienda, ahimè, ma devo farlo in questo momento in ottime mani perché ci sono dei progetti di crescita molto forti, ma questo è un percorso obbligato. In attesa dei prossimi sviluppi giudiziari, Melfa ha comunque confermato la rinuncia all'incarico di esperto del primo cittadino, ma anche a quelli di Federmetano Nazionale e della sua azienda. Dobbiamo andare avanti, quindi questo è il momento della riflessione, della responsabilità, è il momento in cui capiamo che comunque l'unico modo per poter migliorare le cose è quello di coagularci insieme a tutte le forze sane che possono dare un contributo al nostro territorio. Nella MEIC intanto c'è un nuovo CDA, l'ex commissario straordinario del Comune Rosario Arena sarà amministratore delegato occupandosi di legalità e relazioni pubbliche. Il lato contabile e finanziario è stato invece affidato ad Alessandro Guarnera. Penso già alla sentenza di secondo grado che cercherò di guadagnare prima possibile. Naturalmente in questa ottica le conseguenze ci sono e sono quelle di cui parlavo prima, sono l'abbandono dell'azienda in cui opero da 33 anni, tutte le cariche e quant'altro. Quindi è chiaro che ci sono delle ripercussioni fortissime, ma superato il momento di scoramento scatta il momento della riflessione, della responsabilità e della serenità, perché il pensiero va a quelle migliaia di persone che mi hanno in questi giorni contattato in un modo o nell'altro e che con forza mi chiedono di andare avanti. E quindi queste persone, e quindi l'amore per la città, la passione civica che mi anima, mi ha portato a fare quello di cui ho detto prima. L'imprenditore ha anche chiesto personalmente scusa ad una sua stretta collaboratrice, a sua volta condannata ad un anno di reclusione per la vicenda delle sponsorizzazioni. Adesso però lo sguardo è volto al futuro, pur ammettendo di essere ancora ferito dalla sentenza di primo grado. E adesso una buona notizia, perché la dea bendata torna a ricordarsi dei giocatori gelesi, consegnando una vincita da 150 mila euro. Ad incassare la cospicua somma è stata una persona sconosciuta, probabilmente soltanto di passaggio in città. Di sicuro ha acquistato una gratta e vincita a 10 euro, ha raccontato Gaetano Marinetti, titolare della rivendita Tabacchi Marino, che incasterà la somma direttamente in banca. Noi ci siamo accorti dell'avvenuta vincita soltanto ieri sera, anche se il biglietto è stato venduto lo scorso 24 febbraio. Non ci sarebbe nessuno in particolare tra clienti abituali della tabaccheria di Via Venezia ad aver fatto cenno della vincita, un particolare che lascerebbe presupporre ad una persona soltanto di transito in città. Lo scorso anno nella stessa rivendita è stata registrata un'altra vendita abbastanza interessante e cospicua da 100 mila euro. Nei mesi scorsi da 35 mila euro, ma con il super Enalotto. Dopo cinque anni la regione siciliana ha ripristinato l'alveo del torrente Gattano con dei lavori di manutenzione che hanno di fatto ripristinato la sezione del letto del corso d'acqua che negli anni si era ostruita. Sono stati investiti circa 500 mila euro provenienti dai fond PAC. Resta però il problema dei tantissimi rifiuti che tuttora vengono scaricati anche nei canali limitrofi che a lungo andare potrebbero vanificare i lavori realizzati sullo stesso Gattano, ancora Geritalia. Ci sono voluti cinque anni e due diversi governi regionali perché i lavori di ripristino della sezione del torrente Gattano venissero finalmente eseguiti. Per anni il corso d'acqua che scorre a nord della città è stato praticamente il torrente che non c'è. La sezione dell'alveo negli anni si era andata via via ostruendo, cancellando di fatto il letto del corso d'acqua rendendolo sempre più a rischio esondazioni. Cinque anni fa furono stanziati dalla regione siciliana quasi 500 mila euro nell'ambito dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno dei fondi PAC. Nel maggio del 2018 poi il parlamentare grillino Nuccio Di Paola presentò un'interrogazione prima e una mozione poi nella quale si chiedeva al commissario straordinario Croce e al governo regionale che fine avessero fatto i fondi. Oggi finalmente i lavori sono stati eseguiti consentendo a quartieri come Borgo Valentina ma anche Cantina Sociale e Settefarine di mitigare i rischi legati alle bombe d'acqua che negli anni hanno creato diversi allagamenti ai quartieri alla periferia nord della città. Finalmente i lavori sono stati fatti ma ci è voluto troppo tempo. Adesso il torrente ha una sua sezione e quindi nel caso di bomba d'acqua l'acqua può defluire onde evitare poi di sovraccaricare il canale Alessi ed andare poi ad innescare tutta una serie di problematiche nelle tante abitazioni che ci sono in questa zona. Quando si fa rete, quando si cerca di spingere, perché ringrazio anche l'ex dirigente della protezione civile comunale il dottore Seca che comunque mi ha dato le indicazioni giuste per poter spingere nella direzione giusta affinché quei 500 mila euro non venissero persi come spesso accade per poi fare l'intervento anche se con molto ritardo però bene o male siamo riusciti a realizzarlo. E si deve fare così, comunque si deve cercare di continuare a fare rete affinché tutti i progetti che ci sono per il territorio genere se non vengono persi e vengono concretizzati. E neanche il tempo di finire i lavori che i soliti incivili hanno già colonizzato lo spazio creato qui sul torrente Gattano, guardate, già i primi scarichi, materiale inerte, immondizia e tutto questo poi non fa altro che creare problemi in caso di piena. L'appello questo deve essere fatto a tutti i geresi perché è ovvio che si deturpa l'ambiente, si danneggia l'ambiente ma poi tutto questo danneggiamento va a ricadere poi anche su tutti i cittadini perché se noi ostruiamo i canali, se ostruiamo i torrenti, ovvio che poi quando ci sono le bombe d'acqua vengono poi ostruiti i flussi e di conseguenza l'acqua poi viene riversata nelle abitazioni dei geresi. Quindi un appello a tutti i geresi affinché ci sia massima massima attenzione per l'ambiente di quel periodo che stiamo attraversando la Dice Lunga su quanto rispetto dobbiamo avere nei confronti dell'ambiente. Resta il problema dei tantissimi rifiuti che tuttora vengono scaricati anche nei canali limitrofi che a lungo andare potrebbero vanificare i lavori realizzati sul Gattano. L'appello è anche subito di intervenire il prima possibile, magari adesso abbiamo questi mesi che ci separano dove ci possono essere ulteriori e poi oggi però sappiamo benissimo che poi l'autunno comunque anche i periodi estivi purtroppo i cambiamenti climatici ci hanno fatto capire che in qualunque momento può arrivare una bomba d'acqua e allora bisogna fare una manutenzione continua ma ci deve essere massima attenzione da parte dei cittadini perché le istituzioni possono fare manutenzione quanto possibile però poi devono essere i cittadini a rispettare l'ambiente, a rispettare il vivere comune e non devono buttare i rifiuti nelle zone non preposte. E adesso un evento da ricordare perché domani nell'ambito del progetto distrettuale della salute il Rotary ha promosso una campagna di prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari. Si potrà svolgere in Piazza Umberto un test gratuito di prevenzione con la misura della pressione arteriosa, della glicemia ovviamente a digiuno e anche un elettrocardiogramma per i soggetti a rischio. L'appuntamento è per domani dalle 9.30 alle 13.30. Il Comitato Gate Mediterraneo Gela ha concluso la relazione tecnica che invierà al Governo nazionale, al Ministero delle Infrastrutture ma anche agli organismi europei e a tutti i comuni dell'area di crisi. Tecnici, professionisti del settore e associazioni sono certi che si possa arrivare ad ottenere il sì per il progetto dell'hub commerciale e logistico nel Golfo di Gela. Rosario Cauchi. Sono convinti che ci siano tutti gli spazi sia tecnici che economici per arrivare all'obiettivo di un hub logistico e commerciale che rilanci la città attraverso la via del mare. I componenti del Comitato Gate Gela Mediterraneo hanno concluso la relazione con gli allegati progettuali. Entro i prossimi giorni tutto verrà inviato alla Presidenza della Repubblica ma anche a quella del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché ai parlamentari del territorio. Si sta predisponendo l'invio anche agli organismi dell'Unione Europea, spiega l'architetto Francesco Salinitro che fa parte del Comitato. Tra le altre cose sono stati ripresi tutti gli atti, compresi quelli progettuali che erano già stati preparati dall'ex amministrazione comunale, quella guidata dal sindaco Domenico Messinese. Il punto programmatico su richiesta di Salinitro è stato inserito anche nel programma di Mezzogiorno Federato, il nuovo gruppo politico che sta per costituirsi. Salinitro, ex assessore della Giunta Messinese, si riferisce al lavoro preparatorio che era stato condotto da quell'amministrazione comunale nel tentativo di strappare il sì all'investimento sul lab portuale del Comitato, entrato a far parte proprio l'ex sindaco Domenico Messinese. Il progetto del Gate non esclude quello del lab, secondo il Comitato. L'area del Golfo di Gela infatti è considerata la più adatta ad intercettare i transiti lungo la rotta proprio del Mediterraneo. Nelle scorse settimane il sindaco Lucio Greco, accompagnato da una delegazione di assessori della sua giunta, ha avuto un incontro con il commissario dell'autorità portuale della Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, che già in audizione davanti alle commissioni parlamentari Trasporti e Ambiente aveva spiegato che ci sarebbe un importante player del settore interessato ad investire su un'infrastruttura come l'Hub nel Golfo di Gela. Ha anche precisato che un'opera di questo tipo potrebbe realizzarla però solo il mercato. Greco sembra intenzionato a chiedere l'adesione all'autorità portuale della Sicilia occidentale, una linea che pare non convincere però il Comitato. La strada è piuttosto lunga, il Comitato intanto è pronto a trasmettere la relazione tecnica e gli allegati progettuali a tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell'area di crisi complessa nel tentativo di ampliare il fronte. La carta della portualità nell'ottica della zona economica speciale viene considerata come un potenziale punto di partenza per attrarre ingenti investimenti ad oggi però solo ipotizzati. La cronaca giudiziaria ad un anno esatto dalle condanne pronunciate dal GUP del Tribunale di Caltanissetta nei confronti del boss Salvatore Rinzivillo e dei suoi presunti fiancheggiatori è stato fissato il giudizio in appello. L'indagine extra fines consentì di ricostruire i canali di riferimento dello stesso Rinzivillo in città a Roma e anche fuori dall'Italia. Sono 12 gli imputati che si sono rivolti alla corte d'appello di Caltanissetta. Le condanne un anno fa furono pesanti non solo per il boss sessantenne Salvatore Rinzivillo attualmente detenuto in regime di carcere duro ma anche per quelli che l'inchiesta extra fines consente di individuare come i suoi fiancheggiatori. Fu il GUP del Tribunale di Caltanissetta al termine di giudizio abbreviato a disporre la condanna per tutti gli imputati. Ad un anno esatto da quella pronuncia è stato fissato il giudizio di appello previsto a metà marzo. Tutti i legali di difesa hanno impugnato la decisione del GUP e si sono rivolti alla corte d'appello di Caltanissetta. In primo grado il giudice dell'udienza preliminare impose la condanna a 20 anni di reclusione per Rinzivillo. 13 anni e 4 mesi sono stati decisi per l'avvocato Gian Domenico D'Ambra ritenuto molto vicino a Rinzivillo e che avrebbe intrecciato una serie di affari a Roma. 12 anni e 10 mesi di reclusione per l'ingegnere Ivano Martorana considerato braccio destro del boss in Germania soprattutto per il traffico di droga. 11 anni a Gaetano Massimo Gallo e 2 anni e 8 mesi a Giuseppe Flavio Gallo. 10 anni e 8 mesi ciascuno a Filippo Giannino, Emanuele Romano, Alessandro Romano, Aldo Pione e Rosario Pione. 10 anni al carabiniere Marco Lazzari a Rolando Parigi. Dopo il deposito delle motivazioni le difese hanno proceduto a proporre i relativi ricorsi. Secondo i magistrati della DDA di Caltanissetta tutti gli imputati avrebbero avuto rapporti soprattutto economici con Rinzivillo diventando referenti per diversi affari illeciti compreso quello della droga. Tesi che le difese tenteranno di smentire in appello. Chiudiamo con lo sport e finalmente parliamo di sport agonistico, di sport giocato e non di sport parlato e delle polemiche che ne conseguono. Calcio fermo ma domani riprende la palla a canestro. Prenderà ufficialmente infatti proprio domani 28 febbraio il campionato di Serie C silver siciliano che vedrà impegnata la Melfast e Gela Basket insieme ad altre otto squadre che hanno deciso di iniziare. Qualcuno infatti ha rinunciato non senza difficoltà questa travagliatissima stagione agonistica. Nello specifico si tratta di sei squadre del Messinese, Sbasket School Messina, Fortitudo Messina, Castanea, Nuova Palla a Canestro Messina, Orlandina Lab e Svincolati Milazzo, due squadre del Catanese, Cus Catania e Gravina. Domani appunto la prima giornata del campionato con la Melfast che affronterà in casa al Palaitis il Cus Catania. Sarà comunque possibile seguire la partita in diretta streaming sulla pagina Facebook della Melfast Gela Basket. È tutto per questa edizione, tra poco troverete tutti i nostri servizi integrali sulle nostre ovviamente pagine social e vi ricordo che questa sera e domani sera andrà in onda in replica la quattordicesima puntata di Trincee. Grazie e buon fine settimana.